ciao buona giornata oggi ho messo una nuova mattita contorno labbra che mi piace tanto definisce meglio il contorno poi voglio dedicare questo video a delle scarpe che mi sono arrivate due giorni fa queste sono meravigliose allora le scarpe sono così che spettacolo di scarpe così open to allacciate alla caviglia con un bel tacco a spillo e tutte di pizzo qua sul collo del piede completò come piace a me a me piace il plato e poi slanciano anche di più e adesso le provo voglio abbinarle a questo outfit quotidiano che ho messo questa mattina per uscire e consiste in questa bella maglietta con polsini di ciniglia carina che è un regalo questo di una mia amica che lei mi fa sempre tantissimi regali l'ho messo con questa canocchierina basic nera i leggins glitterati perché secondo me queste scarpe ci stanno bene con questi leggins ora non mi resta che provarle proviamo queste scarpe le metto così senza calze nulla voglio fare questa prima prova così una meraviglia di scarpe ma che belle vediamo anche questa poi vedo come sta con questo outfit ma secondo me sì sì è molto adeguata questa scarpa questo mio outfit di questa mattina devo allacciare no c'è il forellino che non è non è bene impostato ci si cammina bene non sono per nulla scomode sono comodissime non sembrerebbe perché hanno il tacco alto però sono davvero confortevoli e eleganti sì 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 allora uso proprio queste per uscire oggi sì 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 ah si si mi piacciono sono ok poi con questo outfit sono proprio l'ideale così questa mattina esco vestita così si vi saluto iscrivetevi al mio canale seguitemi qui su youtube sulla mia pagina patreon lasciatemi un like un super grazie un bacino